La ricostruzione post-sisma è una priorità della nuova amministrazione di Montorio, guidata dal sindaco Fabio Altitonante. Il comune è rientrato nei crateri 2009-2016, ma la ricostruzione, soprattutto del centro storico, la parte più colpita, va davvero a rilento. Per il terremoto 2009 l'ordine di grandezza di cantieri sbloccati nel comune di Montorio era 200.000 euro all'anno. Noi ampiamo un programma per 13 milioni di euro solo nel 2021, 560.000 euro li abbiamo sbloccati in questo primo mese e poi abbiamo 70 milioni di euro di lavori di ricostruzione del 2009 dove non sono stati presentati i progetti. Abbiamo chiesto l'UMI ai progettisti, ai presidenti di aggregati, se non ci saranno i progetti nei prossimi 90 giorni commissarieremo tutta la ricostruzione del centro storico di Montorio. Attualmente ci sono 29 istanze di contributo Sisma 2009 per 14,8 milioni di euro e di queste 8 istanze per 5,2 milioni di euro riguardano il centro storico e i cui lavori partiranno tra gennaio e giugno 2021. Ma ci sono anche 8 istanze per quasi 7 milioni di euro che riguardano aggregati nelle frazioni con obiettivo il secondo semestre. 13 istanze per 2,7 milioni di euro per le quali l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha dato l'incarico a professionisti esterni e si attende ancora il monitoraggio dello stato di avanzamento.